Dal puro divertimento all'esplorazione estrema, il tuo riferimento è Eligio Romano Ferrino Store, via Piano Dardine 15 a Tripanda. Sindaci in attesa di comunicazioni da ANAS, i carotaggi sono terminati, i nuovi calcoli stanno per essere depositati al genio civile, ma quando e come riprenderanno i lavori e soprattutto quando saranno portati a termine? E' l'interrogativo a cui nessuno riesce per ora a dare risposte. I disagi restano tutti in piedi, senza controlli costanti delle forze dell'ordine, il traffico dei mezzi pesanti e l'enorme volume di auto in transito aumentano, le percentuali di incidenti sulla viabilità alternativa. I destinatari dello sgombero restano in attesa di comunicazioni, mentre sulle loro teste resta un ponte smembrato. La fine degli interventi prevista per febbraio è rinviata a quale anno? No, l'interrogativo resta mentre i cittadini esasperati sollecitano risposte da mesi e si dicono pronti. Loro a nuove azioni di protesta lo avevano già fatto presente nell'assemblea di metà dicembre. La gente ha favore di attraversare la strada. Avete parlato, parlato, volete combattere la popolazione con l'altra popolazione. Ma quando ormai? Qua siamo militati. Dove volete andare? Allora, lunedì mattina vi do appuntamento alle nove sotto il ponte, con il gileggiano. E bloccavano le strisce metronate. Chi è disposto? Chi è? Venite? Aspetto. Io ci sarò. Tutti sono militanti. Tutti? Tutte a disposizione. Chi verrà? Ha portato il gileggiano. Ha parlato di gileggiano, si rivoluziona, ha portato il sole. Allora, lunedì mattina alle nove, senza parlare, senza fare gli atti, esponere problemi e tutti quanti sappiamo.